Sindaco ci sono novità sull'ex asilo Manfrini a Fano, qual è la situazione attuale e che cosa nascerà in questa struttura? Intanto possiamo dire che c'è una città che cresce, che si riqualifica e diventa sempre più bella. In questa cornice c'è anche il tema dell'ex asilo Manfrini, nonché già residenza dei marinai in capo alla nostra capitaneria, che sta dentro un progetto. Lunedì inauguriamo la nuova Darsena riqualificata che sta all'interno di un progetto. Il Manfrini, l'assessorato al patrimonio, sta definendo il processo con il demagno per il trasferimento all'amministrazione comunale e poi seguiranno, fra l'altro stanno già elaborando la progettazione, che diventerà sede del Museo del Mare. Un nuovo contenitore culturale che è ovviamente a disposizione della città, ma che guarderà in modo particolare alla tradizione, ai valori della marineria e del mare. Quindi ulteriori passi in avanti per rendere una città sempre più bella, sempre più accattivante, sempre più vivibile, ma soprattutto sempre più interessante sotto l'aspetto storico e culturale.